signori buonasera e soprattutto benvenuti a casa mia benvenuti nella mia biblioteca quelle che vedete alle mie spalle è una parte dei libri in mio possesso si tratta di migliaia di volumi che non ho mai contato con precisione la maggior parte dei quali dedicati alla storia e dedicati soprattutto alla storia della seconda guerra mondiale ho deciso di fare questo video per spiegare una cosa che mi sta particolarmente a cuore ovvero sia perché il detto che vuole la storia scritta dai vincitori è una cazzata rivoltante e immonda semplicemente perché una gran parte di questi libri alle mie spalle sono stati scritti dai cosiddetti perdenti della seconda guerra mondiale la storia è scritta dai vincitori miei cari ne possiamo parlare giriamoci un attimo un autore particolarmente caro ai nostalgici Antonino Trezzino un uomo che ha fatto più danni della grandine ma ahimè vincitore pure lui sopra di noi l'oceano a parte la fantasiosa difesa degli ancor più fantasiosi affondamenti fatti dal comandante grossi Antonino Trezzino è italiano la storia la scrivono i vincitori quindi gli italiani hanno vinto la guerra evidentemente secondo qualcuno e poi abbiamo scusate che metto a posto ecco ne un altro Tameichi Ara asso dei cazzatorpediniere giapponesi e comandante dell'incrociatore leggero Yahagi una unità di scorta della Yamato affondata durante l'ultima crociera della marina imperiale nipponica la storia è scritta dai vincitori parliamo eccone qua un altro adesso sempre poche clonganesi scusate che ecco qua metto a posto eccolo qua sempre per la storia scritta dei vincitori Hans Walter Barr il volto della guerra una raccolta di lettere dal fronte di tedeschi giapponesi italiani inglesi americani Hans Walter Barr tedesco vincitore anche lui dato che la storia la scrivono i vincitori poi sempre lui il mefitico trizzino settembre nero un altro libro che ha fatto più danni della grandine ma essendo trizzino un italiano ed essendo la storia scritta dai vincitori gli italiani hanno evidentemente vinto la guerra altro pocket longanesi avviatori italiani di Franco Pagliano Pagliano italiano anche lui la storia è scritta dai vincitori dobbiamo avere trionfato evidentemente poi eccolo qui altro pocket longanesi Mussolini tale quale una preziosa raccolta di testimonianze di prima mano sul duce sulla sua personalità e soprattutto sul suo crepuscolo quello di Salò Mussolini tale quale Silvio Bertoldi italiano la storia è scritta dai vincitori ammazza scusate sempre cercando così ecconi un altro Sergio Flaccomio i falchi del deserto la storia delle avventure di un pilota dell'assalto sui biplani CR 42 durante la guerra in Libia la storia è scritta dai vincitori parliamone ecco qui scusate metto a posto e sempre a proposito di storia scritta dai vincitori Paolo caccia dominioni e Giuseppe Izzo Takfir espiazione la storia è scritta dai vincitori Joachim Fest il biografo di Hitler tedesco la storia è scritta dai vincitori Sempre per la serie della storia scritta dai vincitori la biografia di Saburo Sakai il più grande asso della caccia giapponese la storia è scritta dai vincitori La caduta di Varsavia Le vicende della Repubblica Sociale Italiana narrata attraverso gli occhi di due dei cosiddetti ragazzi di Salò La storia è scritta dai vincitori Ah, dimenticavo, l'autore è Mario Gandini Poi possiamo anche tranquillamente continuare Possiamo parlare... Ah, sì, eccolo qui Scusate che lo prendo Eccolo qua Non è un libro di storia ma è un libro di politica della guerra Guerra e politica Piero Pieri Il principale storico italiano La storia è scritta dai vincitori Quindi evidentemente abbiamo vinto la seconda guerra mondiale e non ce ne siamo accorti Altro libro molto prezioso e molto interessante Questo con la divisione Ravenna di Giulio De Giorgi Uno dei pochi resoconti di memorialistica sulla campagna di Russia Vista però con gli occhi della normale fanteria E non con quelli più tradizionali e famosi dei nostri alpini Giulio De Giorgi, giornalista italiano La storia è scritta dai vincitori Ammazza che trionfo Eccolo qui Poi possiamo tranquillamente continuare Un attimo solo che cerco Dunque, dove è finito, dove è finito, dove è finito, dove è finito Allora, 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 allora Ce ne sono diversi tanti Ne sto cercando Ah, eccolo qua Le conversazioni di Hitler a tavola I resoconti stenografici Delle verbose tirate che il monarchitico caporlettovo Boemo faceva ai suoi malcapitati ospiti Harry Picker Lo stenografo tedesco La storia è scritta dai vincitori La storia è scritta dai vincitori La scrivono i vincitori Ne vogliamo parlare? Credo sia inutile La storia la scrivono i vincitori Volendo potrei continuare Volendo potrei continuare perché, come vedete, ho diverse altre cose così Sono alcuni solo degli esempi più eclatanti Di quello che possiedo io A mio giudizio la dimostrazione è che la storia è col cazzo che la scrivono i vincitori La storia la scrivono gli storici Le cazzate le scrivono i Minus Abens che non sono in grado di trovarsi il culo cercandolo con tutte e due le mani Signori, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi auguro buonanotte di tutto cuore E ricordatevi, la storia la scrivono i vincitori E se ci credete, prendete e andatevene a quel paese di corsa Con la mia benedizione Buonanotte, miei cari Buonanotte a tutti voi